Mask Network è cresciuto del 40% in un solo giorno e direi che ha tirato abbastanza la nostra attenzione quindi andiamo a vedere un attimo meglio di cosa si tratta prima però mi raccomando un bel mi piace e l'iscrizione al canale per chi è nuovo adesso ci possiamo spostare al pc in questo momento ci troviamo sotto i 5 dollari ma come mai è cresciuto così in fretta e che cosa ha questo progetto di così interessante andiamola a scoprire direttamente nel loro sito ovviamente a me piace farlo veramente in modo semplicissimo e soprattutto scoprendolo insieme a voi ho dato un'occhiata però andremo ad approfondire sicuramente perché a parer mio è veramente veramente interessante e da tenere d'occhio soprattutto per il futuro vi spiego subito il perché appunto Mask Network lasciamo stare la traduzione perché fa veramente cagare si può dire il tuo portale per il nuovo apri internet punto non so se è voluta sta frase proprio così intesa in questo modo ma non è che abbia più di tanto senso ma comunque si andiamo a vedere subito di cosa si tratta che cos'è Mask Network Mask Network porta la privacy e i vantaggi di Web3 ai social media come Facebook e Twitter con un'estensione del browser open source che già questo già già mi piace non per tanto per la questione privacy anche sinceramente anche perché ormai sappiamo tutti che i social network ci contano anche i peli del culo quindi utilizzo della rete come funziona installa l'estensione fai l'accesso con Mask ID collega il tuo portafoglio eccetera come funziona crittografa i messaggi solo per gli occhi degli amici quindi cosa succede scarichiamo questa estensione la installiamo appunto sul nostro browser accediamo al nostro social network che sia appunto Facebook o Twitter chissà se in futuro verrà integrato anche ad altri social network e quando noi andiamo ad inviare messaggi ai nostri amici o qualsiasi altra cosa possiamo vederlo solo noi e loro quindi non saremo tra virgolette spiati i nostri messaggi appunto saranno crittografati ma questa non è la cosa più importante perché la cosa che mi piace di più è veramente che c'è un'apertura al mondo soprattutto delle criptovalute tra i social network appunto e le criptovalute lancia nuovi progetti tramite un ITO offerta iniziale di Twitter quindi vabbè se stai lanciando un progetto su rete Ethereum, BSC, Polygon o Arbitrum gli ITO sono un modo completamente nuovo per lanciare quindi ricapitoliamo se abbiamo un progetto da lanciare possiamo farlo direttamente all'interno di Twitter quindi pubblicizzarlo tra virgolette su Twitter grazie diciamo all'oro tra virgolette rivolgendosi all'oro quindi vediamo ancora una volta l'integrazione forte con i social network cioè ormai Twitter trampolino di lancio strumenti di social trading integrati con i budget integrati sulle piattaforme di social media sarà in grado di visualizzare gli ultimi prezzi delle risorse criptografiche senza lasciare la pagina alimentato da Uniswap Sushi, Swap OX ed Edge eccetera quindi cosa succede? all'interno immaginiamo noi siamo sempre su Twitter ormai abbiamo preso esempio Twitter anche perché rispetto a Facebook mi sembra un attimo up level siamo all'interno di Twitter c'è un messaggio di una criptovaluta noi all'interno direttamente di Twitter senza lasciare la pagina clicchiamo come vedete ci dà direttamente il prezzo in tempo reale eccetera quindi diciamo di avere sempre dati a portata di mano senza uscire e andare a controllare e vedere di cosa si tratta verifica gli avatar FT cosa possiamo fare? possiamo utilizzare il nostro NFT appunto come avatar e avercelo verificato effettivamente come NFT quindi utilizzare il nostro NFT appunto come non lo so avatar come si dice come fotoprofilo di Twitter sapendo che è realmente un NFT non un'immagine, uno screen che anche qui potrebbe essere una cosa anzi, anzi, anzi siamo passati dal punto successivo infatti crea il tuo profilo Web3 aggrega le tue attività digitali tra cui NFT, pop, registrazioni, donazioni eccetera tutto in un unico posto anonimizzato o no dipende completamente da te quindi ecco qua puoi creare proprio esattamente un tuo profilo con la tua galleria NFT cioè fantastica questa cosa, mi piace acquista su social marketplace acquista e vendi NFT ah questo era il punto a cui volevo arrivare acquista e vendi NFT direttamente dalle piattaforme di social media alimentato da OpenSea e altri mercati NFT quindi all'interno del social media magari vediamo un avatar qualcosa di qualcuno ci piace, vediamo la collezione NFT relativa a quell'avatar se sto da lì ci andiamo a comprare il nostro NFT possiamo fare tutto cioè secondo me Twitter ragazzi potrà essere il futuro diciamo che già in ambito crypto è molto 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 utilizzato ma così veramente c'è un'integrazione definitiva secondo me tramite questo network chi sa potrebbe essere che domani quest'idea non viene alimentata quindi lasciamo stare stiamo parlando del nulla però immaginiamo un Twitter così un Twitter completamente integrato con il mondo delle criptovalute noi siamo su Twitter andiamo lì vediamo NFT mi piace me lo compro fammi vedere il prezzo di Bitcoin ti dice il prezzo in tempo reale trasferiamo anzi dopo ci arriviamo perché questo è importantissimo inviamo dei soldi a un nostro amico proprio come un messaggio cioè bellissimo inizia e prendi parte agli omaggi regala NFT e token agli utenti in base all'ordine di arrivo quindi questa è più rivolta appunto ai creatori se abbiamo un progetto ripeto una collezione NFT vogliamo fare un non lo so un airdrop mettiamola così andiamo qui stesso da qui possiamo noi utenti possiamo partecipare all'airdrop stesso da Twitter in questo caso ci sto prendendo sempre Twitter in considerazione archiviare i file in una rete decentralizzata uso un dropbox di nuova generazione permanente non censurabile aperto a tutti alimentato da Arwev che anche questa è una cosa veramente interessante Fiat surrampa facilmente acquista risorse criptografiche direttamente tramite carta di credito bonifico bancario in oltre 60 paesi alimentato da Transec che c'è possiamo acquistare appunto direttamente criptovalute stesso da dal network associato al social network appunto unisci la comunità ok ok partner sostenitori Binance Web3 Botcamp ok ex vabbè ci sono ormai qui c'è tanto di conosciuto molto futuristica come cosa e soprattutto ripeto il discorso che facevo prima ci fa capire come cioè può essere l'up level per integrare ripeto criptovalute con il mondo dei social network con tutto quello che è possibile fare staccarsi un po' dal lato social network classico ma utilizzare social network sfruttarlo con utilità massima perché poi alla fine puoi inviare soldi puoi acquistare cose puoi acquistare NFT puoi scambiare criptovalute poi cioè secondo me top ci sta ci sta ci sta porteremo magari più avanti aggiornamenti magari lo proverò potrei provarlo anche io direttamente vedere appunto se mi ci trovo bene niente spero di esservi stato utile se così è stato un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video anzi se avete altri progetti carini ditemeli ogni tanto che li andiamo a vedere so che non lo faccio spesso sul canale però ogni tanto ci può stare